10 5 4 3 2 1 vai 70 destra 6 e 50 ancora a destra 6 in sinistra 6 e 40 sinistra 4 lunga diventa 3 e cartelli vai vai in destra 4 e sinistra 3 e 30 rail ritarda destra 3 e 50 sinistra 4 e ancora 50 accenno destro vai tutto giù a cartello sinistra 4 e 50 vai la rete ritarda in fila destra 3 più 3 più questa è lunga puoi andare un po' più avanti in sinistra 6 e 50 sinistra 4 e stacca e ritarda vai stacca e ritarda destra 2 vai vai in sinistra 3 lunga vai e stacca destra 2 apri in sinistra 3 meno per destra 3 e accenno destro per sinistra 4 per sinistra 4 alle zebbre diventa 3 qua per destra 6 per sinistra 4 e 20 ancora destra 6 in sinistra 6 all'arancia più di appena per accenno sinistro e 50 ritarda in fila destra 4 e 30 ritarda in fila destra 3 meno 3 meno in sinistra 3 per destra 4 e stacca forte sinistra 1 cambio strada 50 accenno sinistro e destro e sinistra ancora 40 sinistra 4 per destra 4 in sinistra 3 e 50 dopo il ponte sinistra 4 per accenno destro e sinistro e a vuoto ritarda in fila destra 3 in sinistra 4 meno e 40 destra 3 più 3 più e dopo il dosso stacca forte sinistra 2 dopo il dosso sinistra 2 e in destra 6 e alla rinchiera sinistra 6 e 50 e al paletto destra 4 più e ancora 50 ma la chicane entra a sinistra e 50 sinistra 4 stacca poco destra 3 e scende sinistra 4 per destra 4 più e continua su destra 6 30 sinistra 3 più e per destra 6 e 50 occhio qua sinistra 5 30 accenno destro e al rosso sinistra 2 più 2 più e accenno destro e dopo il dosso ancora accenno destro e 50 destra 4 meno tieni occhio salta bravo in sinistra 4 meno e 50 destra 4 scende e 100 vai al palo destra 3 meno 3 meno in accenno sinistro per destra 4 meno e ancora 50 sinistra 4 diventa 3 4 diventa 3 occhio e accenno destro 40 destra 3 e alle pietre ancora destra 3 per sinistra 3 per destra 6 e 70 stacca forte sinistra 1 cambio strada bravo in accenno destro in sinistra 6 e a fine muro destra 3 in sinistra 3 buia e 50 alle pietre destra 4 scende 40 sinistra 4 meno in accenno destro e stacca tornate destro bravo in sinistra 3 meno meno occhio qua 50 al muro sinistra 3 50 ancora sinistra 4 e alla rete destra 3 meno occhio qua destra 3 meno accenno destro 40 molla poco sinistra 3 meno sinistra 3 meno 30 accenno destro in sinistra 2 occhio qua ehi sinistra 2 scende per destra 2 occhio destra 2 con lo scalino e 30 accenno sinistro 40 scende stacca sinistra 2 accenno destro in sinistra 2 ancora per destra 3 accenno destro ancora sinistra 3 meno e dopo la salita destra 3 per sinistra 3 non tagliare diventa 2 scende destra 3 per sinistra 3 per destra 3 accenno destro e destra 2 lunga e chiude infine 2 lunga e chiude in sinistra 2 secca 2 secca 30 accenno sinistro e destra 3 meno occhio dentro destra 3 meno occhio dentro 30 sinistra 2 per destra 2 no destra 2 no in sinistra 3 vai noma tu noma tu no 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 Grazie a tutti.